Quello di sabato sarà un vero e proprio scontro diretto per l'Aquila, che ospiterà il Savona, fanalino di coda a meno 5, complice anche la penalizzazione in classifica. La formazione di Giancarlo Riolfo ha perso nell'esordio stagionale con il Teramo lo scorso 26 settembre ed è reduce da soli 9 minuti giocati domenica contro l'Arezzo, a causa dell'infortunio dell'arbitro di gara, che ha comportato il rinvio della contesa. Al fattore arriverà quindi una squadra pronta a chiudersi, pur di strappare un prezioso punto dall'Abruzzo. Toccherà agli uomini di Carlo Perrone dare finalmente una scossa all'ambiente dopo tre stop consecutivi, tornando a fare punti proprio contro una delle dirette concorrenti alla volata salvezza. Anche le statistiche sorridono all'Aquila, che ha vinto per 1-0 la sfida dello scorso anno grazie al gol di Salvatore Sandomenico.